Si chiama No Dad, Si Vax, la campagna della ASL Lanciano Vasto Chieti che mira a favorire la didattica in presenza e al tempo stesso a sensibilizzare alle vaccinazioni. Siamo a D'Ortona, all'Istituto Comprensivo Francesco Paolo Tosti con il dirigente Luca Menna. Qui siamo davanti a uno dei due plessi. Sì, qua ci troviamo nella sede centrale di via Mazzini, qui a D'Ortona e oggi abbiamo la seduta della campagna vaccinale promossa dalla ASL Lanciano Vasto Chieti in collaborazione con il Ministero della Difesa. Noi abbiamo aderito con grande interesse e con grande partecipazione a questa iniziativa perché riconosciamo il valore educativo. Oggi il vaccino è l'unico strumento che abbiamo per combattere la pandemia e quindi è necessario, direi fondamentale, che tutte le fasce della popolazione che possono si vadano a vaccinare. Quindi noi diamo il nostro contributo per aumentare la sicurezza e migliorare anche la speranza di uscire da questa situazione pandemica. Qui siamo in una delle due scuole medie. Intanto, quale fascia di ragazzi può vaccinarsi? Beh, come oramai tutti sanno, la fascia di popolazione che può vaccinarsi è quella che ha almeno compiuto i 12 anni. Quindi diciamo che noi ci riferiamo essenzialmente ai ragazzi e alle ragazze della seconda secondaria di primo grado o alla classe terza sempre della secondaria di primo grado. Come hanno preso questo i genitori? Insomma, che risposta c'è stata? Allora, è ovvio che in termini numerici noi non possiamo aspirare o ambire a grandi numeri perché rispetto alla nostra popolazione scolastica chi può vaccinarsi è essenzialmente residuale da un punto di vista numerico. Però c'è stato interesse, c'è stata partecipazione, c'è stata richiesta di informazioni proprio perché le famiglie cominciano in gran parte a capire l'importanza di vaccinarsi e in attesa che questa pandemia finalmente vada via. E siamo qui nella palestra della Scuola Media con il dottor Mauro Di Iure, dirigente medico del distritto sanitario d'Ortona e il dottor Di Iure ha diretto anche l'hub vaccinale della Micoperi. Quanto sono importanti questi momenti per la sensibilizzazione al vaccino? Allora, questa è una bella iniziativa presa di concerto con la regione, con la nostra azienda sanitaria, con il direttore generale, e tutta la direzione per sensibilizzare e questo recarsi presso le scuole è un atto simbolico, è rassicurativo che l'esercito ci dà per rassicurare anche gli indecisi. Quindi è un'opera di persuasione molto bella, secondo me, che aiuta qualcuno che ha ancora delle perplessità. Probabilmente anche lo stesso esercito ha una funzione rassicurante per convincere gli ultimi, perché noi avendo avuto a Micoperi a distanza di 2-3 km da qui, diciamo, un centro vaccinale potrebbe sembrare una rindondanza, ma di fatti poi eticamente non lo è, a livello proprio di persuasione, diciamo. Quindi siamo ben felici di accogliere i colleghi e tutta la struttura che ci è venuta qui a supportare. Oggi stiamo facendo il giro delle scuole di Ortona e con una discreta risposta, è un'iniziativa simbolica, ma molto bella per quanto mi riguarda. Grazie. 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 Grazie.